E' veramente notevole, raggio gamma! Che sia chiaro, questa non è l'immagine di una persona che ha appena ricevuto il vaccino contro il Covid, ma solo un cartone animato di successo. Tuttavia, se è vero che il vaccino non ci rende invulnerabili né ci muta in supereroi, è anche vero che ci mette a disposizione delle armi formidabili per aggredire il virus, gli anticorpi. Funziona? E per quanto? Gli interrogativi diventati anche più pressanti dopo la notizia dell'operatrice sanitaria risultata positiva al Covid, pur avendo fatto vaccino e richiamo. Il vaccino evita la malattia, ma non evita il contagio, non è una barriera fisica. Quindi se io faccio il vaccino, produco gli anticorpi, e ormai ci sono studi che dimostrano che a distanza già da qualche settimana della prima somministrazione inizia la costruzione dell'anticorpo, che si consolida dopo la seconda somministrazione. Quando il virus trova l'anticorpo, non riesce a parassitare la cellula e quindi muore. Quindi questo cosa vuol dire? Che se il virus entra nell'organismo di un soggetto vaccinato, non dà la malattia perché trova gli anticorpi che la bloccano. Però è ovvio che il contagio ci può essere. Quindi potrebbe essere che per qualche giorno il virus, anche se in maniera residuale, possa replicare nelle cellule dell'epitelio dell'apparato respiratorio. L'obiettivo della vaccinazione è di creare una sorta di malattia in miniatura che consenta la costruzione di una difesa immunitaria e limiti i danni eventualmente della malattia. In linea di massima il soggetto vaccinato dovrebbe avere un tampone positivo per un periodo molto molto breve. Consiglia di vaccinarsi? Assolutamente sì. Non le nascondo che queste perplessità, secondo me, sono legate comunque alla disinformazione perché, ripeto, avere un tampone positivo è cosa che non deve preoccupare. Quello che a noi preoccupa è la malattia e la sua evoluzione. E sull'efficacia del vaccino sulle varianti? Sembrerebbe che il vaccino sia in grado assolutamente di coprire anche la variante inglese. Alcuni studi non sull'uomo ma sulle colture cellulari sembrerebbero indicare effettivamente una maggiore capacità del virus modificato con il ceppo brasiliano di avere maggiori potenzialità di eludere il vaccino. Si sta ragionando se proporre una terza dose per aumentare la quota anticorpale, ma in ogni caso c'è già una risorsa importante perché il vaccino è costruito, perlomeno quello che stiamo facendo noi, con dei frammenti dell'RNA che potrebbero essere, così come hanno già fatto, modificati con le nuove varianti. Grazie a tutti.